Buongiorno, sono Caputo Teresa Maria di TGLT4Glob, Flash News. Passiamo ora alle notizie. La 90 bocce conquista la Coppa Italia di Serie A femminile. Straordinario traguardo per la squadra femminile della 90 bocce. 90 bocce, le ragazze, allenate da Francesco Scapolan, hanno conquistato la Coppa Italia 2023. Di Serie A femminile della specialità Volo, il trionfo è arrivato a Feltre, dove si è tenuta la fase finale della competizione. È stata una grande battaglia che ha visto protagoniste le ragazze noventane. Nel pollo di qualificazione, il noventana è stato battuto per 2 a 4 dalla Maranese, ma poi ha conquistato il passaggio del turno grazie al successo. Per 4 a 0, nel recupero con la Borgonese. In semifinale, il 90 ha battuto 4 a 0 l'auxilium. Quindi, nella finalissima, le noventane si sono prese la rivincita sulla Maranese, battuta per 4 a 2. La finale è stata incerta e alla Cardiopalma, decisive per il team noventano, sono state le vittorie della solista Chiara Botteon. 13 a 8 su Angelica Setti e della coppia Erika Brauschai e Alessia Campagnaro, che hanno sconfitto per 9 a 8. Bonardi Giozzet ha venduto carissima la pelle anche Arianna Campagnaro, sconfitta sul filo di lana a 9 a 10 da Basei. La squadra della noventana a bocce era composta da Chiara Botteon, Alessia, Arianna Campagnaro, Erika Brauschai, Ilaria Scotto e Giada Ferraccio, allenatore Francesco Scapolan, dirigente Umberto Bicoletto. Allora, concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.